ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ragazzi primo video di video acquisti inerente al mese di aprile mi è arrivata diversa robina adesso vi faccio vedere i pacchetti quasi tutti i provenienti da amazon tranne uno che ho acquistato da un rivenditore affiliato a ids il pacco in questione è questo l'ho acquistato da ids perché tra il costo del pezzo e le spese di spedizione comunque rispetto ad amazon mi sono risparmiato qualcosina parla di più o meno 3 euro e quindi insomma risparmiare ma sempre bene e quindi mi son detto acquistiamo da ids faccio spesso un rapporto di prezzo tra amazon ids su ids avendo lo sconto del 15 per cento molte volte conviene acquistare allora apriamo il pacchettino e andiamo a vedere di cosa si tratta film che mi sono accorto di non avere in collezione che ne ho approfittato per recuperarlo in 4k e si ragazzi l'edizione 4k di the doors l'ho trovato con la card la collezione quindi ottimo recupero direi pensavo di averlo almeno in dvd in proprio invece proprio veramente non ce l'avevano nessun formato e quindi ho preso direttamente il 4k e via allora andiamo a vederci subito questa bellissima slip tutta in rilievo con con g morrison al centro tutto lucido ovvero valchilmer g morrison interpretato da valchilmer adesso andiamo ad estrarre la slip andiamo a vedere anche perché nella parte posteriore è tutta lucida e in rilievo come il titolo del film the doors bel lavoro della eagle per quanto riguarda questa linea a me piace veramente tantissimo allora facciamo un po' l'islargo andiamo a vederci la marei andiamo a vedere l'interno edizione a doppio disco quindi abbiamo il 4k e il blu ray andiamo a vederci anche la carta da collezione dove riportata anche la numerazione tiratura limitata mille copie la mia la numero 146 si veda ok andiamo a vedere anche l'artwork della cartolina molto molto bello bel pezzo questo molte volte sono convinto di avere questi titoli in collezione e poi invece magari quando lo vado a cercare vado a ragionarci sopra mi accorgo che che manca allora poi ci sono vari pacchetti proveniente da amazon ho approfittato anche degli sconti di primavera però sono gli ultimi due pacchetti adesso andiamo aprire questi allora qui abbiamo recuperato i conquistatori dei sette mari con john wayne piano piano come vedete sto recuperando tutti i film adesso nel mirino ne ho altri 8 9 poi ogni tanto ne salta fuori qualcuno con un po di ricerca bisogna che sto attento a non prendere doppioni perché sono tanti anni che non catalogo più nulla mi ricordo abbastanza fortunatamente i titoli che ho e che non ho ma rischio sempre di prendermi qualche doppione questo è il film che non ho visto ok andiamo aprire un altro pacchetto e si tratta di malcom x film con danza washington edizione inglese ragazzi con audio italiano avevo fatto anche un post inerente a questa edizione sia su mondo cinema sia su the cut movie collector caffè e seguitemi e seguitici anzi a me è il mio amico sebi seguiti i nostri gruppi facebook troverete postati tante occasioni tante edizioni del genere che ricordo sono andate sold out qui in italia quindi edizione italiana sold out però potete recuperare benissimo questa edizione uk con audio italiano adesso andiamo ad aprire devo confessare il titolo che non ho mai visto titolo che mi ero prefissato di recuperare già da tempo ma come succede sempre si accumulano talmente tante edizioni delle volte che non so più da che parte farmi titolo in blu ray volevo andare a vedere le lingue inglese 5.1 master audio dolby surround 2.0 francese spagnolo poi abbiamo mono in italiano mono in italiano 2.0 quindi quindi non abbiamo una gran bella codifica audio ma comunque il film lo possiamo guardare in italiano quello è l'importante ragazzi eh altro pacchettino altra corsa ovviamente se trovo una codifica audio migliore se avessi trovato una codifica audio migliore sarebbe stato meglio ma mi accontento anche di guardarlo in 2.0 quindi andiamo ad aprire l'altro pacchetto vediamo di cosa si tratta questo è un recupero che ho fatto con gli sconti di primavera ed è black phone è un titolo è un titolo che volevo già acquistare da diverso tempo e con questi sconti l'ho pagato mi sembra sui 7 euro 7 euro qualcosa e quindi mi ho approfittato e l'ho recuperato intanto facciamo una bella mucchia di mondizia per terra adesso andiamo a vedere una semplicissima marea disco singolo prima anche questo che ovviamente non ho visto quindi andiamo avanti con gli ultimi due pacchetti qui invece questo non è un titolo che ho recuperato con gli sconti di primavera ma è un titolo che ho preso perché mi ero accorto che era uscito me l'ero dormito e quindi sono andato a recuperarlo si tratta di Whitney film sulla vita di Whitney Houston quindi un film biografico anche questo non vedo l'ora di vederlo perché Whitney Houston è una cantante che mi è sempre piaciuta e sono curioso di vedere questo film sono curioso ma sicuramente sarà bellissimo solo posso solo immaginarmi la colonna sonora di questo film e quindi da brividi dovrebbe sarà da brividi sicuro dovrebbe essere sarà da brividi andiamo avanti con il pacchettone finale che contiene tre titoli questi sono stati acquistati usufruendo dello sconto di primavera di Amazon allora andiamo a vedere di cosa si tratta perché abbiamo due titoli in blu ray e un titolo in 4k allora io inizierei subito con il titolo 4k ho acquistato baby boss 2 pagato mi sembrano vero 90 il primo lo possiede in blu ray però siccome qualche mese fa l'anno scorso ho acquistato il lettore 4k televisione 4k insomma adesso il blu ray non dico che l'ho messo un pelo da parte perché comunque ne sto acquistando però comunque se posso acquisto il 4k andiamo ad aprirlo qui invece troviamo due dischi disco 4k e disco blu ray primo film che mi era piaciuto e poi essendo un completista se acquisto il primo titolo poi dopo ovviamente vado a recuperare anche il secondo o il terzo insomma non lascio mai le cose a metà tranne per qualche dimenticanza come mi capita spesso allora andiamo avanti ho acquistato in blu ray ragazzi la fiera delle illusioni anche questo titolo portato a casa mi sembra con poco più di 7 euro adesso lo andiamo ad aprire anche questo era un titolo che ero curiosissimo di guardare casta spaziale per questo film poi ne ho sentito parlare anche veramente bene anche questo era salvato per dopo veramente in questo periodo veramente non so come fare poi il mese e questo mese il mese di aprile uscirà talmente tanta roba che ho dovuto cancellare qualcosina non ce la si fa sta dietro tutto quanto almeno io non ce la faccio delle volte mi tocca rinunciare e poi dopo comunque andare a recuperare successivamente scusate ultimo titolo per questo video è minion 2 allora film che ho visto al cinema film che mi è piaciuto ma difficile che questi film non possano piacere secondo me sia cattivissimo me tutti e tre i film sia minion e minion 2 sono veramente dei film molto divertenti quindi andiamo a vedere perché abbiamo anche delle cartoline intanto andiamo a vederci la serigrafia del disco molto carina adesso andiamo a vederci le cartoline che sono due allora prima cartolina bella lucida ragazzi spessa quindi di qualità questo è il retro e adesso ragazzi andiamo a vederci la seconda cartolina belle belle considerando che anche questo film l'ho pagato diciamo sempre più o meno sui 7 euro addirittura 6 euro e 90 una roba del genere c'è veramente una cifra irrisoria ogni tanto ci vuole ogni tanto ci vuole rispargare qualche soldino ogni tanto fa solo bene e quindi abbiamo sei blu ray no cinque blu ray 2 4k e un dvd allora ragazzi io con questo ho concluso il video a breve a breve dovrà arrivarmi l'edizione della raro vi sto parlando di nightmare vi mostrerò questa one click che sarà qualcosa di veramente svalorditivo sia per le grafiche sia per la qualità di questa edizione perché raro film sta lavorando sta lavorando per noi le prime edizioni non sono state proprio il top diciamo ci sono state delle migliorie da edizione a edizione ho visto tanti miglioramenti tanti miglioramenti ma con questa edizione siamo arrivati dovremmo arrivare veramente a una qualità superiore ed è quello che tutti i collezionisti vogliono e raro sta lavorando per darci dei prodotti di altissimo livello poi volevo parlare anche un po' di quello che sta succedendo su facebook dove ci sono alcuni personaggi che si sono comportati secondo me male nei miei confronti si sono comportati male perché io ho sempre portato rispetto a tutti e non ho mai detto una parola storta sono sempre stato educato e mi ritrovo mi ritrovo ad essere stato bannato da gruppi dove come ho detto non ho mai parlato male di nessuno non ho mai offeso nessuno sono sempre stato educato e quindi io questa cosa non riesco proprio a capirla e sostengo raro sì certamente prima sostenevo altre label e ho sempre continuato a sostenere tutte le label italiane perché mi sembra giusto sostenere le nostre label sostenere le nostre label che stanno producendo dei prodotti meravigliosi però a me certi comportamenti non piacciono io sostengo raro sosterrò raro e e la poi ragazzi vedremo comunque i risultati vedremo se ho avuto ragione o meno se ci ho visto bene o meno ma penso proprio di averci visto bene perché da questo da questa nuova uscita da questa nuova release vedremo veramente i miglioramenti che ci sono stati frutto di tantissimo lavoro le prime edizioni non sono state il massimo anche se devo dire che l'edizione di Elvis è stata molto molto bella mi è piaciuta veramente tanto l'avvocato del diavolo è una bella edizione è una bella edizione è una bella edizione sicuramente c'era qualcosa da migliorare ma da come ho detto da questa edizione in poi avremo dei grossi edizi miglioramenti sia come grafiche sia come materiali e quindi ragazzi io non vedo l'ora che mi arrivi questo copernetto di nightmare non vedo l'ora di fare questo unboxing e dopo vedremo ragazzi dopo vedremo perché ride bene sempre ragazzi chi ride ultimo io con questo concluso questo video se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi like iscrivetevi al canale e niente ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao ciao ciao